Buongiorno, visto che mi è stato richiesto oggi preparo il tiramisù e userò le uova, un po' di ricotta al posto del mascarpone, i soliti pavesini ma si possono usare anche i savoiardi, un po' di dolcificante, che uso la stevia, e del caffè per inzuppare i biscotti. Adesso vado a miscelare il tutto. Io ho montato a neve gli almoni, però se volete potete tranquillamente mischiare tutto insieme. Io l'ho fatto per rendere il composto un pochino più umoso, più delicato, più soffice. Gli albumi chiaramente vanno mischiati molto delicatamente, altrimenti si smontano. Comincio a preparare il tiramisù. Inzuppo velocemente i pavesini nel caffè, caffè che ho dolcificato un pochino con la stevia. E poi verso un po' del composto. Lo livello bene. Poi un altro strato di pavesini, oppure savoiardi, oppure potete usare anche i biscotti secchi. Ecco, continuo così fino all'esaurimento. Ho terminato. Adesso finirò con un bel giro di cacao amaro. E il tiramisù è fatto. Adesso lo mettiamo in frigo per qualche ora, 5-6 ore, e poi è pronto per essere consumato. Adesso. 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 Adesso.